Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte, ha ribadito che se i magistrati non renderanno limpida la legittimità della sua elezione, avvenuta alle ultime elezioni regionali, lui è pronto a lasciare la sua carica istituzionale e da ripresentarsi poi al giudizio dei cittadini. È deciso a muoversi nella maniera apposta rispetto a Roberto Cota, il suo predecessore, che secondo Chiamparino ha riportato la regione in un clima di incertezza durato quattro anni. L'attuale presidente della regione si dichiara deciso di evitare che se ne perdano altri quattro e se ciò dovesse accadere, egli stesso non vedrebbe altra strada che le dimissioni, cercando possibilmente di non interrompere le azioni istituzionali come il pagamento di debiti della regione. Il 9 luglio prossimo è previsto il giudizio del TAR sulla vicenda firme. Nel frattempo il presidente ha incontrato i vertici del Partito Democratico, regionale e provinciale, per tracciare il percorso da seguire, ipotizzando i possibili scenari futuri. In conclusione ha ribadito che non presentare le proprie dimissioni significerebbe far pagare ai cittadini il conto delle incapacità della politica, mettendo inoltre al repentaglio ciò che di positivo è stato fatto nell'ultimo anno di governo della regione. Grazie a tutti.